Due auto danneggiate e tre agenti infortunati dopo un inseguimento della polizia stradale durato oltre un'ora tra l'autostrada Siracusa Catania, la statale 114 e l'ospedale di Lentini. La polizia ha arrestato Orazio Privitera, 42 anni, per resistenza, lesione a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L'uomo a bordo di una Nissan Note è stato fermato contro mano prima dello svincolo di Augusta dell'autostrada Siracusa Catania, quando l'agente è sceso dalla volante l'automobilista ha tentato di investirlo. È iniziato un inseguimento con la Nissan Note che procedeva sempre contro mano, rischiando lo scontro con le altre auto. Sono intervenuti altri mezzi della polstrada, carabinieri e guardie di finanza. L'auto è stata bloccata davanti all'ospedale di Lentini.